Ciao a tutti. Ciao a tutti. Siamo molto felici di essere qua ad effettuare il vaccino. L'abbiamo fatto con entusiasmo anche perché è l'unico strumento in grado di combattere questo dannato covid. Noi dobbiamo essere contenti di farlo per raggiungere e conquistare la libertà. Dopo oltre un anno di grandi sacrifici. Quindi dico a tutti i giovani e a tutte le persone di vaccinarsi. È come essere una squadra di calcio. Per raggiungere un obiettivo dobbiamo essere uniti. Uniti come una grande squadra contro questo maledetto virus. Aderiamo tutti al vaccino per riconquistare la piena libertà. Che tutti vogliamo. Vaccinatevi. Grazie.